2 novembre con il sindaco De Caro si è tenuta questa mattina la commemorazione dei defunti davanti alla chiesa madre del cimitero del capoluogo pugliese a celebrare la messa l'arcivescovo di Bari Satriano che ha detto è tempo di riscoprire il senso della vita. Inizia da noci da un'azienda della filiera lattiero casearia il tour tutto barese del sottosegretario all'agricoltura Francesco Battistoni che accompagnato dai vertici regionali di Forza Italia e dal collega alla giustizia Sisto sta incontrando i massimi esponenti delle associazioni di categoria della regione. Proclamato il lutto cittadino a Barletta il giorno dei funerali di Claudio Lasala ucciso da una coltellata nella notte di venerdì dopo una lite scoppiata in un locale del centro storico della città. Domani intanto si terranno le udienze per la convalida dei fermi. L'edizione della sera della nostra informazione regionale ben ritrovati 2 novembre il sindaco De Caro e l'arcivescovo di Bari Satriano sono stati i due ospiti d'eccellenza questa mattina per la commemorazione dei defunti davanti alla chiesa madre del cimitero del capoluogo pugliese. Sentiamo Antonella Fazio. Una giornata di sole ha accolto i fedeli che nelle scorse ore hanno raggiunto la chiesa madre della necropoli del capoluogo pugliese per le celebrazioni dedicate alla giornata dei defunti. A celebrare la funzione l'arcivescovo di Bari Monsignor Satriano, in prima fila anche il sindaco della città Antonio De Caro e tutte le istituzioni del capoluogo. Quando la morte verrà ci porterà via tutto, ma voglia di accumulare, a mettere da parte, a tenere a questo o a quello, ci porterà via tutto. Solo una cosa non ci potrà portare via, quello che abbiamo dato perché esso è presso coloro ai quali lo abbiamo donato. Questa è la grande verità, miei cari. Al termine della messa, come da tradizione, si è tenuta la deposizione di una corona di fiori all'ossario dei caduti della prima guerra mondiale. In un passaggio importante l'arcivescovo ha detto che quando andiamo via la morte ci toglie tutto, resta soltanto una cosa, quello che abbiamo dato perché resta, mi ricordo, nelle persone a cui abbiamo donato, a cui abbiamo fatto delle cose positive. Ci sono tante persone che attraversano anche la nostra città, la nostra comunità, lasciando un segno positivo, ecco, questo è l'insegnamento della giornata di oggi nel ricordo dei nostri difunti. È un momento di grande mestizia, ma anche un momento che ci provoca ad assumere una responsabilità forte, autentica, ricca di amore per la vita. Ecco, il giorno che stiamo celebrando, se da un lato ci fa riportare al cuore e rivalutare, ecco, le persone che abbiamo perso, dall'altro ci fa anche riscoprire il senso profondo della vita. Inizia da noci, da un'azienda della filiera lattiero caseare, il tour tutto barese del sottosegretario dell'agricoltura Francesco Battistoni, che accompagnato dai vertici regionali di Forza Italia e dal collega alla giustizia Sisto, sta incontrando i massimi esponenti delle associazioni di categoria della regione. Abbiamo fra PAC e PNRR degli strumenti finanziari eccezionali che non abbiamo mai avuto prima. Dobbiamo essere bravi noi a intercettare queste risorse e a portarle sui territori. Detta così l'agenda, il sottosegretario dell'agricoltura Francesco Battistoni, utilizzo virtuoso dei fondi e rapporto diretto con il territorio, va in quella direzione. Il tour con lo Stato Maggiore Azzurro, partito da noci nel barese, da uno stabilimento del settore lattiero caseario, proseguito poi a noi Cattaro e Valenzano, prima di una tappa politica a Manfredonia. Succede nelle stesse ore nelle quali il numero uno nazionale Antonio Tajani ad essere destinatario di minacce da parte dei Novax per la questione Green Pass. Fa quadrato intorno a lui il gruppo in via Gentile, nel pomeriggio il focus con le associazioni di categoria del comparto per discutere di politica agricola comunitaria e di contrasto all'avanzata dell'axilella. La manovra, se ci stiamo ancora lavorando, sicuramente sarà migliorabile con i lavori parlamentari, però per quanto riguarda l'aspetto agricolo io credo che possiamo ritenerci soddisfatti. Dobbiamo andare avanti, però ripeto, dobbiamo essere per primi noi a mettere in condizioni i nostri operatori di poter spendere i soldi che sono a disposizione. La produzione casearia, andremo a vedere anche quella marineria a Manfredonia, incontreremo Coldiretti e Confagricoltura, insomma le associazioni di rappresentanza, svilupperemo anche l'argomento di come stiamo e vogliamo che venga affrontata definitivamente, nonostante la passività della regione, l'axilella che è stato uno dei trammi che ci ha caratterizzati in questo settore. E per l'appunto durante il suo tour, Barese Battistoni ha incontrato anche Coldiretti Puglia per fare il punto della situazione sul disastro ambientale legato alla pandemia degli ulivi, rigenerato solo il 4% degli oliveti colpiti. L'axilella non è un problema della sola agricoltura, questa cosa la Coldiretti la ripete da anni, è necessario smuovere le coscienze per far sì che non solo gli agricoltori siano portatori di questo dramma, ma anche tutti coloro i quali vivono la Puglia e anche coloro i quali vivono e visitano la Puglia. La piaga dell'axilella continua a preoccupare gli esperti e sembra che i rimedi adottati fino a questo momento non siano del tutto sufficienti. Solo il 4% degli ettari olivetati sono stati reimpiantati con olivi di specie resistenti, dopo che l'axilella ha fatto morire oltre 21 milioni di piante in 8 anni in Salento. E' quanto denunciato nel corso dell'incontro dei quadri dirigenziali di Coldiretti Puglia con il sottosegretario di Stato alle politiche agricole Francesco Battistoni. L'axilella ha provocato effetti più disastrosi di un terremoto con ripercussioni drammatiche di natura produttiva, ambientale, economica e lavorativa, con esigenze di contenimento, ricostruzione, sostegno che vanno affrontate in maniera strategica, univoca e di sistema tra Governo e Regione Puglia, rendendo i procedimenti fluidi e fruibili, ha detto Savino Muraglia, presidente di Coldiretti Puglia. Gli olivi sono da sempre, come posso dire, il punto di riferimento dell'immagine della nostra regione, quindi non è un problema soltanto dell'agricoltura, questo va detto con molta chiarezza, è un problema che riguarda tutti quanti noi, parlamentari, consiglieri regionali, tutti coloro che hanno a cuore la Puglia devono puntare con un grande respiro corale a risolvere il problema dell'axilella, che non è soltanto un danno per l'agricoltura, è un danno per ciascun cittadino pugliese. Abbiamo parlato della pandemia degli olivi, adesso parliamo della pandemia degli uomini in questo momento, vale a dire il Covid, vediamo i numeri degli ultimi 24 ore nella nostra regione, 83 nuovi casi, 14.824 i test giornalieri, per fortuna non ci sono persone decedute, 3.119 sono quelle attualmente positive, 141 in terapia intensiva, dunque parliamo di ricoveri, anzi 141 in area non critica, 20 in terapia intensiva, per un totale di 161 persone ricoverate. Pregiudicati le loro famiglie e altri lavoratori in nero sono tra i 290 furbetti del reddito di cittadinanza scoperti dalla Guardia di Finanza di Barletta tra le province della BAT e Foggia. Avrebbero percepito indebitamente il reddito di cittadinanza senza averne i requisiti, sottraendo alle casse dello Stato circa 1,9 milioni di euro dal 2020. La Guardia di Finanza di Barletta, in collaborazione con il personale dell'Inps, ha segnalato 290 persone residenti in diversi comuni delle province di Barletta, Andrea, Trani e di Foggia. Tra i 290 furbetti del reddito di cittadinanza ci sono una cinquantina tra condannati per reati di mafia e loro familiari, altri che non avevano il requisito della residenza, altri ancora che non avrebbero indicato tutti i redditi percepiti o vincite a giochi online o il possesso di immobili. Ce ne sono anche alcuni sorpresi in attività lavorative in nero. L'operazione fa seguito a quella di alcune settimane fa, eseguita dai colleghi militari di Bari, nei confronti di altre 109 persone prevalentemente pregiudicati e loro parenti, che per mesi avrebbero percepito indebitamente il sussidio. L'indebito accesso a prestazioni assistenziali e a misure di sostegno al reddito, dicono i finanzieri, genera iniquità e mina la coesione sociale, soprattutto in questo difficile periodo di crisi economica e sanitaria. Proclamato il lutto cittadino a Barletta nel giorno dei funerali di Claudio Lasala, ucciso da una coltellata nella notte di venerdì dopo una lite scoppiata in un locale del centro cittadino della città. A Barletta sarà proclamato il lutto cittadino in occasione dei funerali del 24enne Claudio Lasala, ucciso da una coltellata nella notte di venerdì dopo una lite scoppiata in un locale del centro storico della città. A renderlo noto lo stesso comune di Barletta, attualmente retto dal commissario prefettizio Francesco Alecci, i funerali del giovane si potranno svolgere non appena la salma sarà restituita ai familiari, in seguito all'esame autoptico disposto dalla procura di Trani in programma per il 4 novembre e che sarà eseguito dal medico legale Franco Introna. Intanto si terranno nelle prossime ore nel carcere di Trani davanti al GIP Domenico Zeno le udienze di convalida per il fermo di Michele Di Benedetto e Ilias Abid, i due ragazzi di Barletta coinvolti nell'omicidio del 24enne. I due sono stati fermati tra il 30 ottobre e il 1 novembre per concorso in omicidio volontario aggravato da futili motivi, Di Benedetto si è presentato davanti ai carabinieri di Barletta accompagnato dal suo avvocato Donatella Paolillo già il 30 ottobre per spiegare di non sapere nulla dell'accoltelamento pur ammettendo di aver litigato con la vittima in un locale. Abid, che avrebbe ferito la sala con un coltello sottratto nel locale invece, è stato fermato nella mattinata del 1 novembre mentre accompagnato dal suo legale Gerardo Matera si stava recando al carcere di Trani per costituirsi dopo essersi reso irreperibile per 48 ore. A Taranto un arresto per concorso in omicidio, i fatti sono avvenuti nel dicembre scorso. Ci ricostruisce la storia Gianni Sebastio. La squadra mobile di Taranto ha chiuso il cerchio. Nelle indagini per l'efferato omicidio è avvenuto il 16 dicembre del 2020 al Rione Tamburi in via Machiavelli a Taranto fu ucciso, un uomo di 39 anni, Graziano Rotondo. Il questore di Taranto e il capo della squadra mobile Manco hanno illustrato i dettagli dell'operazione che ha portato all'arresto del presunto terzo autore di questo omicidio. Si chiama Giovanni Nigro, a 23 anni. È stato un omicidio veramente ferato se pensiamo che era una morte annunciata nel senso che la vittima ha avuto percezione del rischio che stava correndo, cioè del fatto di essere inseguito, di essere stato scoperto all'interno di quel sotterraneo e quindi ha visto la morte in faccia. Ci sono stati dei minuti sicuramente di terrore, riteniamo, una ricostruzione del tutto umana dei fatti. Credo che questo comporti anche una contestazione di aggravante nel capo di imputazione relativa. L'accusa è di concorso in omicidio per il quale poco dopo i fatti furono arrestate altre due persone, Vincenzo Balzo e Carmelo Nigro, con lo stesso motivo. L'episodio sarebbe maturato in quanto la vittima fu trovata in un luogo dove veniva custodita la droga. L'uccisione avvenne in uno scantinatto, nelle cosiddette case parcheggio, in via Machiavelli, con un colpo d'arma da fuoco al petto. Ci mancava l'ultimo tassello, ovvero la responsabilità del terzo soggetto oltre ai due che furono fermati nell'immediatezza e quindi riteniamo, appunto, per quanto riguarda la responsabilità dell'omicidio, di aver chiuso il cerchio. Anche nel centro storico c'è stata un'attività dei falchi. A quelle poi va quella che è l'attività più premiante, quella con intercettazioni, con ambientali, con riscontri che derivano anche dalle attività di polizia scientifica. Quindi un'attività tutto tondo, come ho detto prima, che consente di dare una risposta efficace a quelle che sono le situazioni che si vengono a creare sul territorio, anche di fatti di sangue, come in questo caso. Ed è tutto per l'informazione regionale, a tra poco per quella provinciale.